Eccoci e bentornati sul mio canale! Riprendiamo con Minecraft in difficoltà difficile, non mi veniva la parola, non capisco il perché. Allora, non so se qua c'era la lava, ok, no, qui no, e stavo pensando di andare bene sotto terra, così che procediamo ovviamente il nostro processo. Adesso cacchio, qua c'è la lava e non mi piace, quindi direi di andare a tappare prima che possiamo, quindi là non si va, dobbiamo procedere a scavare da quest'altra parte, quindi puliamo qua, puliamo qua, puliamo qua, puliamo qua. A proposito di pulire ragazzi, andiamo su che abbiamo da fare una cosa molto importante, non so se vi siete ricordati, abbiamo da prendere il ferro per vedere se possiamo fare finalmente qualche pezzo della nostra armatura. Allora, possiamo fare l'elmo, la tunica, possiamo fare il corsetto ancora no, i gambali ancora no, gli stivali di ferro invece sì. Allora, intanto prepariamoci con l'elmo di ferro che lo andiamo subito a mettere sul nostro personaggio, perfetto, così che già abbiamo una piccola protezione rispetto a prima. Bene così, ok, allora, stavo pensando di raggiungere proprio il fondo della mappa, se siete d'accordo. Una volta fatto e raggiunto, vediamo un attimo se troviamo qualche diamante, qualcosa di figo, cercando e sperando di non trovare erogne qua sotto. Allora, sempre pensavo di fare qualche scaletta per scendere, però potremo intanto fare con i blocchetti così e scendiamo. Poi intanto, poi pensiamo a fare le scale per salire in facilità. E poi, così almeno una volta che abbiamo fatto le risorse, direi, fra un paio di video, se tutto va bene e riusciamo a finire ovviamente la nostra armatura in tempo, la mia intenzione è quella di andare sempre su quella galleria, quella brutta galleria che abbiamo vicino a casa. Carbone, carbone ragazzi, carbone, cosa significa carbone? Che la cosa si mette molto bene. Allora, andiamo giù, andiamo giù. La mia paura è solamente una qua, sperando che non arriviamo in un punto di non ritorno. Carbone, carbone, eccolo qua, eccilo qua. Guarda quanto, bello di casa, bello di casa, ma chi te manna? Ma chi te manna? Grandissimo, toglilo tutto, tutto quello che puoi amante, che ci serve come il pane sia per cuocere e sia soprattutto per le torce, perché se no io dentro alle gallerie al buio ragazzi non ci vado, non ci vado ragazzi, non ci vado, perché non mi fido tantissimo. Allora, puliamo qui, puliamo qui, puliamo qui, qui c'è altro carbone da prendere. Leva, 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 pulisci, pulisci, pulisci. Leppiamo questa parete e poi potremo cominciare a pensare un attimo a fare le scale. Solo che ne posso fare solo tre, infatti direi nel prossimo video di andare a prendere un po', come si dice, un po' di legna. Allora, quindi vediamo un attimo come è la situation qua. Allora, allora, qua ci mettiamo un ciotolo, un ciotolo. Qua è troppo alto per i miei gusti, così, così, aspetta, così, così, uno e due, poi questo, 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 bene così, poi questo, 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 perché se no non rivengo più su ragazzi. È fin troppo alto per i miei gusti, benissimo, ok, vai così, pulisci qua, ok, molto, 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 bene, perfetto. E così almeno saliamo e non ci abbiamo rogne. Leva questo e queste sono le nostre mitiche scalette di casa. Adesso, se siete d'accordo, potremo andare a fare una cosa. Se è giorno, possiamo, mi sembra proprio di sì, andare a recuperare un po' di legna. Perché un po' di legna? Perché, aspettate che leviamo un po' la pala, leviamo la costoletta, perfetto, e prendiamo un po' di legna. Un po' di legna per fare le scale, che ci serviranno, ovviamente, poi per ritornare su dalla fine della mappa. Così, una volta fatta la mappa, siamo messi abbastanza bene. Allora, pulisci qua. Io comunque non so voi, ragazzi, a me perché piace veramente tantissimo giocare e me ne frego del caldo, del fresco, del freddo. Perché tipo l'inverno mi se spaccano le mani a giocare, perché ovviamente non è che te può mettere a gioco i guanti, come cacchio fai. Dico però, all'estate è veramente un caldo, boia, servirebbe proprio un ventilatore mentre si gioca. Però il problema è che ci ho provato fa troppo casino, perché se no giocavo col ventilatore mentre stavamo messi così. Allora, ogni di questo bocchetto, se non ricordo male, ci fa ben quattro pezzi belli elaborati e raffinati di legno. E non mi ricordo quanti ne servivano per poi andare a fare, ovviamente, come si chiama, le nostre scale. Allora, andiamo a prendere quest'altro pezzo di albero, che non capisco in che parte del mondo l'hanno costruita. Guardate casa nostra quanto cacchio può essere brutta comunque al momento. È veramente fatta male, eh. Però l'obiettivo nostro è andare in perlustrazione e uccidere tantissimi, ma tantissimi, ma tantissimi mostri. Al momento ancora non c'è nessuno perché dobbiamo entrare nella galleria. Però, oh, tutto sto legno qua non mi piace per niente. Allora, ci leviamo la terra, ci leviamo la terra, ci leviamo i ciottoli, ci leviamo i ciottoli, ce ne avevamo pure troppi. Il legno di betula non mi piace per niente, altri ciottoli ce li leviamo. E andiamo a prendere tutta questa legna, ok. Poi, tutta questa qua l'ha presa? No, qua non l'ha presa per niente, vedi? Perfetto. E ancora, quindi, questi alberi qua non me li ha presi per niente. Qua non avevamo fatto un altro, no? Ecco l'altro. Prendi, 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 perfetto. Ok, andiamo a fare queste scale, se siete d'accordo, così almeno procediamo. Qua mi sembra che sia tipo tutto tranquillo. Potrei mettere a cuocere un po' di carne, perché non penso me ne sia rimasta tantissima. Allora, come carbone aspettate che vado a fare un po' di torce. Un po' di torce, ne possiamo fare un'altra, una quarantina penso possono bastare. Poi il carbone che è rimasto qua lo mettiamo qui e mettiamo a cuocere il manzo crudo e poi mettiamo a cuocere pure le altre cosette. Aspettate, do cacchio vado, ho fatto tutto questo per fare una cosa importantissima e mi dimentico del legno. Converti tutto. Ah, poi abbiamo preso poco però, eh. 64, benissimo. Adesso lo convertiamo in scale. Forza. Almeno una parte, una parte me la lascio, una trentina. Perfetto. 55 scale penso che possono bastare per andare giù. Bene. Allora, direi di iniziare da qua. Quindi una qua e una qua. Una qua e una qua. Vai. Una qua e una qua. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Perfetto. E mo'. Una qua e una qua. Benissimo. Penso che ci siamo, eh. Abbiamo collegato tutto bene. Di luce siamo messi bene. Ne serve adesso una qua assolutamente sulla sinistra. E possiamo continuare a scavare. Si scende ragazzi. Si scende. Quindi qui, qui e allarghiamo. Cominciamo subito ad allargare. Alla ricerca sempre di carbone, ferro e magari qualche diamante. Oro non tantissimo perché mi avete sempre detto di non fare materiale di oro. Di non fare soprattutto roba di oro. Perché nel senso c'è una resistenza quasi pari a nulla. Quindi. Allora. Qua vediamo un po'. Qua puliamo. Qua puliamo. Perfetto. Quindi qua ci mettiamo una scala, una scala. Una scala, una scala. Una scala. E una scala. Che figata ragazzi. Oh. Belle. Carbon. Vedi? Vedi quando lo chiamiamo. Eccolo qua a me. Il carbone adorato. Vieni, vieni da papino tuo. Vieni. E ce n'è proprio tanto. Aspettate che allargo magari ne trovassimo ancora altro. Vieni da me. Vieni da me. Tutto a me. Tutto a me questo bel carbone. Finalmente. Tanto carbone. Solo che ci mette tre ore. Perché. Ah. E vedi. Potremmo fare una cosa col ferro. Fa il piccone di ferro che era molto meglio. Però. Va bene anche così. Non stiamo a prendere tutto sto carbone. Penso di sì. Aspettate che. Quanto ce n'abbiamo? 13. A mappa così poco? Mi era sembrato sinceramente di più. Mi era sembrato. Vabbè. Allora. Qua abbiamo fatto le scale. Dobbiamo scendere. Dobbiamo scendere. E andiamo un pochettino ancora più giù. Fino a raggiungimento della crosta terrestre. Fino a. Non mi ricordo come. M'avete detto che si chiama. La. La parte finale. Cioè quella roccia. Che è praticamente indiristruttibile. Di Minecraft. Allora. Qua mettiamo una bella torcia. Che non sto tanto tranquillo. Un po' troppo buio. Per i miei gusti. Pulisci qua. Pulisci qua. Bene. Qua ce ne mettiamo una. Una due. Qua ce ne mettiamo una. Una due. Così almeno. Stiamo andando da paura. Poi a me piacciono tantissimo. Le scale. Ora che ho capito bene. Il funzionamento. Sia del gioco. Che dei vari accessori. Comincia già. A essere già. Tutt'altra serie. Ma soprattutto. Io mi diverto molto. Ma molto di più. Rispetto a prima. Allora. Finiamo qui. E potremmo fare anche una cosa ragazzi. Ci terminiamo qua. E così almeno me ne vado a Ninna. Che sono un po' stanco. Ma soprattutto anche il mio alter ego. Dopo un bel po' di costruzioni. Faccio gli ultimi due pezzi di scala. Li metto. Uno qua. Uno qua. Uno qua. E uno qua. Perfetto ragazzi. Ditemi che cosa ne pensate. Sia della mia costruzione. Stiamo andando a vedere cosa troviamo in fondo alla mappa qui su Minecraft. Versione difficile. Se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi sul mio canale. Mettete un bel mi piace sul mio video. E ci vediamo con tanti nuovi video. Sempre qui. Sempre sul mio canale.